Uccisione confermata. Niente prigionieri, uccideteli tutti. Niente prigionieri, uccisione confermata. Niente prigionieri, uccisione confermata. Niente prigionieri, uccisione confermata. Niente prigionieri, uccisione confermata. Autonomia UAP esaurita, entro alla valle. Ricarico. Di seguo. Abbiamo posforo bianco pronto al lì. Di seguo. Niente prigionieri, uccisione confermata. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Niente prigionieri, uccisione confermata. Niente prigionieri, uccisione confermata. Iro 2-3 in posizione, morte dall'alto Nemico, discarico Spiele sicure, ingaggiare Retta il sistema online, fuoco Corretta su una nemica schierata Non male Nemico, scordi 40 disponibile 30-5 online, fuoco 40 disponibile Non male 25 in ricarica Seminico, muore Durante al limite, buona fortuna, amici Fuoco pronto a sopolo Ui Falcon 3-0, ricevuto Amico Uccisione confermata Autonomia UAV esaurita, rientro alla balla Un nemico, discarica Un nemico, discarica Un nemico, discarica Stiamo in testa Stiamo in testa, aumentate il vantaggio Nemico, via principale Un nemico, sicuro Uccisione confermata Pronto Aproviso, fai le armi in arrivo Un nemico, scurire Un nemico, scurire Un nemico, scurire E' finito, ce l'abbiamo fatta E' un nemico, un container di carico